Ormai siamo in piena attività natalizia, in piena ambientazione natalizia, siamo qui già quasi alla metà di dicembre, domani intanto è 13 dicembre Santa Lucia, auguri a tutte le Lucie, domani grande scorpacciate di Cuccia, vediamo noi dove potremmo trovarla e vediamo un po' come assaggiarla. Questo è un periodo particolare a Caltegirone dove si intensificano le iniziative di carattere presepistiche, Caltegirone per Antonomasia è la città dei presepi, c'è un'offerta molto variegata, tantissimi presenzi in presepi con tutte le specificità sia materiali sia culinarie, il presepe del pane, il presepe Blake, il presepe di cotone, il presepe in movimento, il presepe statico, a grandezza d'uomo e quant'altro, è un'elencazione. Questo qui dà l'idea che la realizzazione del presepe ogni anno stimola nuove sperimentazioni, nuove ambientazioni, perché lo si può declinare come ognuno ritiene di farlo, ognuno con la propria sensibilità e conoscenza. Un fatto è certo che il presepe vivente invece ha una sua unicità. Per la tredicesima volta il gruppo dell'associazione presepe vivente di Caltegirone, il cui presidente è Filippo Di Martino, se non vado errato, no? Benvenuto a Filippo Di Martino, presidente dell'associazione presepe vivente, organizzano questa tredicesima edizione. Benvenuta la signora Graziella Cataldo, buonasera, ben ritrovati. Lo posso dire se siete marito e moglie? Non c'è bisogno, si capisce. Si capisce, non so dai cosa che dice, dalla presentazione non credo, però va bene così. Allora dicevo, tredicesima edizione, quando cominciaste, dove cominciaste e perché cominciaste? Chi lo dice? Filippo. Noi ci conosciamo con Filippo, siamo quasi coetanei e poco più grande di me, va bene. In collaborazione tramite la parrocchia di San Pietro, perché io di origine a parte di San Bersano, perfettamente, quindi in collaborazione con i ragazzi di vari gruppi di San Pietro, ecco, nacque questa iniziativa, ecco, da nulla in poche parole, senza, e da parte mia è un qualche cosa che mi ci sono subito appassionato, anche perché in realtà il messaggio che potrebbe anche essere importante, soprattutto per i bambini, il mio obiettivo è nel rappresentare quello che sono i mestieri antichi. Ecco, perché un bambino possa vedere, constatare qual è l'origine che oggi magari l'evoluzione ci ha portati a, che tutto è diventato elettronico, tutto a telecomando, ma una volta non era così, una volta se dovevi, faccio un esempio, dovevi piantare un chioto, ecco, il martello e il chioto, adesso abbiamo una macchina che spara chioti, un esempio un po' banale, come quello che erano gli agricoltori di una volta, gli aratri in legno, ecco, ancora prima dell'Ottocento in legno, poi in farro, adesso tutto è meccanico, ecco, perché possa dare questo, possa trasmettere questa conoscenza, ecco, ed è una cosa, ripeto, che mi appassiona. Filippo Di Martino è un ricercatore antropologico, è uno che praticamente tutto quello che riguarda i mestieri, le arti del passato, fa incetta di strumenti, di attrezzi, ha la sua abitazione, non la sua abitazione dove vive, ma indubbiamente dove ha possibilità, ha una ricca collezione di tutta questa attrezzistica, di strumenti che servivano a lavorare alla terra, il legno, o fare lavori manuali, cestini, tante altre cose, io adesso moro perché non è una materia che mi appartiene, però lui ha questa passione e la mette fuori, la sfoggia sempre con l'occasione di mettere in rappresentazione il presepe vivente. Per lui rappresentare il presepe vivente è anche una vetrina di mestieri e arti che stanno scomparendo, attraverso gli strumenti che lo stesso colleziona amorevolmente, devo dire con grande passione. Sì, 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 e mi permetto, non posso fare a meno di ringraziare signor Cascino per l'opportunità. Pino. Pino, è il comune di Caltagione, principalmente il nostro sindaco, ecco tutto il corpo dei vigili urbani, eccellenti veramente perché mi aiutano tantissimo, perché non è facile poter seguire quello che è la burocrazia, ma con l'aiuto e la volontà di voler fare le cose vengono superate. E non posso fare a meno a cuore i cittadini calatini, perché ripeto, non è così semplice che a me mi aprono le porte. E quest'anno dove realizzeremo il presepe vivente, ecco la cosa che mi riguarda tanto è che ho ricevuto tantissima ospitalità. Perché il presepe vivente, ancora prima di realizzarlo, l'associazione presepe vivente, lo realizza il Calatino. Cioè, su questo veramente io ringrazio tantissimo chi mi ha aperto le porte, per poter realizzare ancora una volta questo nostro desiderio. Allora, Filippo Di Martino, avete inteso, è quello che organizza appunto il percorso, l'allestimento di questi arti e mestieri, questa location, va alla ricerca dei cosiddetti catoi, no? Siamo così, no? I catoi, benissimo. Garage, catoi. E questa è un'immagine dello scorso anno, ma la location quest'anno non è quella di San Bonaventura, bensì è quella di Santo Stefano, se non l'hai errato, no? La signora Graziella invece Cataldo si occupa essenzialmente dell'organizzazione dei costumi, degli allestimenti, diciamo, no? Prego. Io ho una grande passione che, diciamo, che ho preso dalla mia culla. Io ho fatto anche una poesia, la mia culla che si chiama Donna, e le donne della mia casa hanno trasmesso a me la passione per l'estetica, per il bello, per il raffinato. Non a caso in famiglia abbiamo una persona che eccelle in questo, lo porto sempre nel cuore, si chiama Giacomo Di Dio, che lavora per una grande azienda di stilismo, di abbigliamento, stilista, e veramente, e questo io lo porto veramente come una bandiera nella nostra famiglia, perché è il più piccolo di casa, che ha portato appunto alta questa bandiera dell'estetica. Del buon gusto. Del buon gusto, del vestire bene, dell'arredo. Mia nonna era una donna che, come molte donne, sapevano ricamare, cucire, fare intimo, fare intimo. Mia madre è stata, e lo è, una donna che ricama. Aprivo le vetrine di casa mia, avevo delle vicine, che stavano tutto il giorno a ricamare. Quindi io sono cresciuta in questa culla, nel gusto che la Sicilia porta e sa portare. Allora, vediamo questo presepe che esordisce il giorno domenica 17, giusto? Sì. Come lo avete strutturato? Posso dire avete, perché tutto sommato ormai è prossimo, diciamo, non è che c'è molto da aspettare. Le idee chiare le avete? Allora, innanzitutto tutto parte, mi ripeto, dalla disponibilità dei nostri concittadini, che ci hanno, e quindi il percorso si è articolato a partire dalla discesa a Sant'Agata, via Nigido, via Ronco, Zafferana, via Brunelli, via Di Martino, via Santo Stefano, via Saito, fino a sbucare allo spiazzare dei miracoli ai piedi della via Luteca. Allora, noi abbiamo voluto comunque tenere quella parte artistica e antica, ricca, barocca, che distingue Caltagirone, e questo connubio di scene e di vita quotidiana, perché oggi parliamo di mestieri, ma se parliamo del 1800 parliamo di vita quotidiana, dove il popolo, il popolino, si arrangiava a fare di tutto. Non esisteva proprio un mestiere scisso e ben definito, ma esisteva la famiglia che per vivere provvedeva a tutto, provvedeva al vestiario, al cibo, a falegnameria, ogni famiglia cercava di essere autonoma, diciamo. Lo era, perché parliamo che nel 1800 ancora abbiamo un sistema molto feudatario, dove ancora in Sicilia, a fine 1800 abbiamo questo sistema, quindi le famiglie erano famiglie che spesso avevano una stanza, un catoio per casa, dove c'era di tutto. E vivevano, vivevano, i soldi erano miraggio, vivevano spesso anche di baratto, sei uova in cambio di una cacciotta, o di un paio di scarpe, o per fare la dote alla figlia, insomma, ecco, quindi noi abbiamo voluto riproporre le scene di vita quotidiana, più che parlare di mestieri, poi anche di mestieri, in connubio con l'arte barocca e spero di riuscire a creare un effetto regale, che è proprio la natività. La natività che avremo per il 25 è una natività regale. Perché abbiamo voluto ricreare una natività regale? Perché sì è vero che comunque non dimentichiamo il bambinello che dovrebbe essere il protagonista del Natale, Gesù Bambino. Gesù Bambino già è venuto in umiltà, è venuto tra il popolo, ma essendo una ricorrenza vogliamo ricordare che Gesù Cristo verrà nella gloria. E quindi noi vogliamo ricordare questa gloria, vogliamo, aspettiamo, noi cristiani, perché lo siamo, per fede, aspettiamo Gesù nella gloria. Ecco perché spero che l'effetto e l'impatto e il messaggio sia sempre questo. E il connubio tra i presepi e la vita quotidiana mescolata al barocco e a questo passato, che lo è stato, perché duemila anni fa nasce Gesù Cristo, e vogliamo ricordare che è veramente il nato Gesù Cristo e veramente questa umiltà è esistita e queste sono le nostre origini, questa è la cultura dalla quale veniamo. e questo ci deve fare riflettere, perché spesso ci proteggiamo al futuro, però dimentichi da dove veniamo. Allora, vediamo un po' a ricordare, giorno 17, dicevo domenica pomeriggio, diciamo, no? Sì, sì, dalle 17, domenica 17, l'inizio da dove parte? Ore 17. Dalla dicesa Sant'Agata. Allora, l'invito, chiaramente dicesa Sant'Agata, l'inizio del presepe è in via Nigito. Vabbè, troveranno la segnaletica. Intubiamente. Diciamo che più o meno all'imbocco, al finale della via Roma, davanti al carcere borbonico, troveranno la segnaletica per addentrarsi in questo quartiere che è di Santo Stefano. Lo semplifico così e non vado analiticamente a citare tutte le vie che ha fatto la signora Graziella. In effetti è così. E quindi sarà questo giorno 17, poi viene riproposto negli altri giorni. 25 e 26. 25 e 26, Natale, Santo Stefano. Benissimo, per chiusura giorno 6. Giorno 6. Ecco, in particolare, ci siamo riservati, in caso che il mattempo dovesse ostacolarci, ci siamo riservati il giorno 7. Però è un qualcosa... 7 dovesse domenica, mi pare, no? Sì, perfettamente. Però, dal momento in cui tutto dovesse andare bene, quindi non riteniamo opportuno il 7. 7 è solo un discorso, sai, magari qualche giorno... Va bene. Allora, rinfrescheremo la memoria, mi è consentito? Sì, rinfrescheremo, rinverdiremo la memoria. Ecco, è così. Rinverdiremo la memoria giovedì prossimo, anzi venerdì prossimo, sì, venerdì prossimo. Per ricordare questo inizio, siamo proprio a ridosso delle sordie e poi in progress. Vediamo un pochettino ad essere anche noi megafono, diciamo, per tutto quello che ci sarà. Ci sarà una partecipazione di quanti personaggi, più o meno, Filippo? Io penso, arriveremo a una sessantina così. Beh, si dice così, ma... Però sono sempre di più. Sono sempre di più. Ci sono tante braccia e tante teste che lavorano. Ci sono tante persone che vogliono partecipare e questa è una cosa che ci sorprende, hanno proprio il piacere di divertirsi e di fare Natale insieme a noi in questo modo. Quindi il numero è approssimativo, perché molto spesso alla fine ci sono molti partecipanti che si aggiungono all'associazione. Allora, in bocca al lupo, esordio giorno 17, il pomeriggio sarà, no? Sarà il primo pomeriggio. E quindi un percorso nuovo e vedremo un po'. Certamente andrà bene. E ben strutturato. Non abbiamo assolutamente dubbi, perché abbiamo davanti due professionisti ormai collaudati in tutti questi anni. E' un po' di ringraziare i miei collaboratori, che non sono collaboratori, ma fanno parte di questa associazione. Io amiro tantissimo lo spirito che fino a qualche momento fa viviamo. Non tanto per un scopo di nucleo, ma perché quella cosa ci emoziona, la desideriamo. E quindi speriamo di poter coltivare questo sentimento, quanto più pulito è possibile. Bene, grazie alla signora Graziella Cataldo, grazie a Filippo Di Martino. Allora, l'appuntamento per la tredicesima edizione del Presepe Vivente. Cominciata la discesa di San D'Agato, più o meno le zone sono quelle, ma poi ci saranno i totemi, ci saranno le indicazioni per questa riedizione del Presepe Vivente, che esordirà appunto domenica pomeriggio alle 16.30, mi pare, no? Più o meno l'orario è quello, le 16.00, poco cambia. 16.00, poco cambia e sarà la prima e certamente la prima sarà il buon inizio di tante altre repliche fino al prossimo 7 di gennaio. Buon lavoro, alla prossima, grazie. Grazie a voi. Pausa pubblicitaria, torniamo subito dopo in diretta. Pausa pubblicitaria, torniamo subito dopo in diretta.